ciao a tutti e bentornati sono di solo pane dopo tanto finalmente un video su un libro è un libro di hélène jean basterra per un'ecologia cristiana edito da lindao nel 2008 quindi siamo prima della laudato si ma un libro che in cui già si respira la forte sensibilità dei cristiani nei confronti del nostro pianeta del cosmo ecco un'ecologia cristiana è sempre cosmologica cioè non si ferma mai solamente del pianeta noi ci fermiamo al pianeta perché è quello che abbiamo più prossimo ma in realtà l'amore per il creato del cristiano è cosmologico ecco questi autori sostengono che il contenuto del cristianesimo che è la carità il cuore è la carità di conseguenza comporta anche un amore nei confronti di tutta la creazione e per capire questo basta andare ai testi dei padri dell'eserto e al francescanesimo quindi i testi di san francesco e di chi è venuto dopo di lui i problemi all'interno che si anesimo cioè dell'interpretazione errata nella bibbia avvengono con cartesio secondo questi autori cartesio che poi stato seguito da alcuni cristiani come malebranche e pascal che avevano introdotto delle dottrine assolutamente estrane al contenuto biblico che invece mira all'amore nei confronti di tutto il creato quindi l'amore cosmologico proprio e questo ovviamente ha prodotto anche parte del disastro ecologico a cui assistiamo per esempio in questa estate le autori dicono siccome molti accusano i cristiani di essere complici del disastro ecologico ecco gli autori dicono che in parte è vero proprio perché c'è stata però una cattiva interpretazione nella scrittura non perché la bibbia in realtà nella bibbia è insida una tendenza a distruggere il pianeta assolutamente no alcuni accusano erroneamente il cristianesimo di questo la bibbia in realtà ci sono parecchi passi che lo confermano è pro pianeta è pro creazione cioè a favore a tutela del del di tutto il cosmo una cattiva interpretazione del testo biblico però ha anche prodotto parte con in parte il disastro psicologico attuale ma sottengono gli autori il cuore cristianesimo non è assolutamente questo e basta per andare alla bibbia ai padri del deserto al franciscanesimo c'è poi stata una tendenza nell'interno di considerare il mondo come qualcosa di malefico quindi qualcosa da qui tenersi lontano pensiamo solo all'influenza che ha avuto l'ognosticismo all'interno della regione cristiana e per questo poi abbiamo il mondo è stato sempre visto come qualcosa da usare e non da custodire e chiudo leggendo alcune parti del di questo libro molto sembrano ecco importanti da leggere a causa di uno straordinario capovolgimento invece di amare la terra di benedirla di ringraziare il signore per avere elargito un dono prezioso la società moderna e con esse i cristiani se ne sono serviti in modo basso ne hanno abusato come se fosse un oggetto senza anima da gettare le limondizie come un limone spremuto i cristiani hanno fatto ben più che permettere un simile scandalo per giustificarlo sono giunti perfino a citare a sproposito le parole della bibbia e del vangelo stravolgendone il senso con il protesto di soccorrere i loro fratelli umani hanno calpestato la natura loro sorella minore senza dubbio essendo inconsciamente felici di potersi vendicare dell'enigmatica matrina dei culti pagani da cui cristo li aveva affrancati hanno amato gli uomini contro il resto della creazione hanno usato pietà soltanto nei confronti dei loro simili in caso di bisogno ovviamente si impongono alcune preferenze ma la solidarietà di fondo rimane irrinunciabile di fronte a una comune sventura l'amore è indivisibile quindi al cuore del cristianesimo c'è questo amore profondo e totale per il cosmo e ancora in concludo dicono per un cristiano ogni sofferenza deve ispirare compassione quali che ne siano le vittime uomini animali piante e pietre ogni mutilazione ogni negligenza ogni ingiustizia nell'universo deve suscitare un sentimento di rivolta e il desiderio di porvi rimedio se in futuro è inevitabile che la creazione sia risanata il cristiano deve comunque preoccuparsi di limitare i guasti a essi inflitti fino al giorno in cui nessuno nessun danno sarà più possibile non si tratta di un sentimentalismo fuori luogo che può essere forse indefinibile riguardo al dolore degli animali ma diventa problematico quando si parla di piante e minerali la sofferenza di cui stiamo parlando è presente in ogni creatura ed è dunque di tipo ontologico la sofferenza delle creature non umane è doppiamente scandalosa perché colpisce essere innocenti niente è più innocente di un fiore niente ha meno intenzione di nuocere salvo che non sia in gioco la sua stessa sopravvivenza ecco quindi un libro veramente anche breve sono 80 pagine appena 80 pagine un libro breve va intenso alcuni libri brevi sono belli proprio perché sono intensi racchiudono alcune verità alcune perle si dice no davvero davvero ammirabili ecco allora lo faccio rivedere per un ecologio cristiano di helen e jean bastair vi auguro una buona giornata un saluto grazie per essere tutti sul canale se volete condividete il video mettete mi piace fate quello che volete noi ci vediamo per il prossimo per il prossimo libro ciao